Buonasera e grazie per essere di nuovo con noi a Fattore Bergamo dedicato alla salute. Questa sera è venuta a trovarci nei nostri studi la dottoressa Maria Ricapina che è chirurgo dell'ospedale di Alzano Lombardo, consulente di politperatica e stasera parliamo con lei dell'intervento alla coliciste in via laparoscopica. In via laparoscopica che ormai è la tecnica chirurgica che da oltre 30 anni si utilizza in alternativa alla tecnica tradizionale che rimane comunque una delle possibili opzioni quando non è possibile espletare l'intervento per via laparoscopico. Intanto parliamo di cos'è la coliciste. La colicisti è un sacchettino, colicisti e cistifellea è la stessa cosa, sono sinonimi, è un sacchettino che è messo sotto il fegato, quindi nella zona destra del nostro corpo che serve per concentrare la bile. In persone predisposte questo tipo, la bile, si sovrassatura, quindi praticamente precipita, forma dei cristalli prima e successivamente forma dei calcoli, dei piccoli sassolini, che possono diventare col tempo più o meno grandi. Possono rimanere silenti questi... Esatto, nel senso che non necessariamente chi ha i calcoli della cistifellea poi sta male, può anche, possono, finché non si muovono... Esattamente, spesso i calcoli vengono riscontrati con l'ecografia in modo del tutto occasionale, proprio un riscontro casuale dovuto al fatto che uno fa l'ecografia per un altro motivo, per controlli, per altre patologie e si ha riscontro dei calcoli della colicisti. Possono stare silenti per anni, possono anche non muoversi mai. Possono stare silenti per anni e possono non muoversi mai. Infatti, uno dei dilemmi è quello del perché operarsi di calcoli della colicisti, quindi asportare la colicisti. In primis perché una colicisti che ha fatto i calcoli, quindi che ha prodotto questi sassolini, è una colicisti che sostanzialmente non funziona. Non funzionando non ci serve, quindi si può vivere tranquillamente senza la colicisti. È così? Sì, allora, finché rimangono silenti, ma noi chirurghi vediamo le complicanze di quando i calcoli si muovono dalla colica biliare, che è dolorosissima, che è dolorosa, all'itero, quando il calcolo si muove, si sposta dalla colicisti e finisce nella via biliare, oltre a dare una colica biliare molto forte, dall'iterizia si diventa gialli nella cute, negli occhi, e questa è già una complicanza. Ulteriore e ancora più grave complicanza è quando il calcolo continua a migrare nella via biliare, sbocca a livello del pancreas, perché la via pancreatica e la via biliare sono comuni, e si ha la pancreatite. La pancreatite acuta è una malattia molto grave, con un tasso anche di mortalità. Per cui, volendo evitare queste complicanze così gravi, si preferisce togliere la colicisti in elezione, cioè con un intervento già programmato, con una data e un'ora precisi, in modo tale di arrivare nelle migliori condizioni possibili a fare questo intervento. Quindi la presenza di un calcolo è già di per sé sinonimo di cistifellea che non funziona più? Sì, sostanzialmente questo, cioè è una colicisti, una cistifellea che a volte ha tutto il suo lume occupato, o da un unico grosso calcolo, o da tanti piccoli calcoli, ma che sostanzialmente non fa più il suo lavoro. Che invece sarebbe quello? Quello di concentrare la bile ed utilizzarla quando facciamo i pasti abbondanti, soprattutto ricchi di grassi, che serve per sciogliere proprio a livello digestivo i grassi. Ma non è evidentemente indispensabile. Cosa fate quando il paziente arriva sotto i vostri ferri? Il paziente prima da noi arriva in ambulatorio, nel senso che una volta fatta questa diagnosi di calcoli della colicisti, sia perché ha avuto la colica biliare o come riscontro occasionale, il medico... Quindi è sufficiente un'ecografia? È sufficiente un'ecografia. Si può fare diagnosi anche con l'attacca o con la risonanza magnetica, ma sono per casi più complicati, più difficili, più difficili di diagnosi. Mentre invece il 99% viene diagnosticato con un'ecografia. Dopodiché cosa succede? Il paziente arriva da noi in ambulatorio e quindi spieghiamo se è venuto per una colica, già il paziente è predisposto ad essere operato perché non vuole più sentire il dolore che ha avuto. Se invece non ha mai avuto coliche, facciamo lo stesso discorso che abbiamo fatto adesso, cioè indichiamo quali sono, secondo noi chirurghi, i motivi per cui li portiamo ad un intervento. E l'intervento è la colecistectomia laparoscopica, cioè l'asportazione. Cosa consiste? È l'asportazione della colecisti per via laparoscopica, questa tecnica ormai consolidata, che consiste nell'addormentare il paziente con un'anestesia generale, quindi un'anestesia totale, in modo tale che possiamo gonfiare l'addome con l'anidride carbonica, in modo da creare una camera, una cavità in cui noi andiamo a lavorare. Mettiamo una telecamera nell'ombelico, poi facciamo altre tre incisioni e mettiamo i rimanenti ferri necessari per poter andare a trovare la colecisti. Per cui guardiamo sotto il fegato, andiamo ad individuare la colecisti, interrompiamo i vasi sanguigni e i vasi biliari che la legano al nostro corpo, la stacchiamo dal fegato e la estraiamo sempre dall'ombelico. Questo banalmente è l'intervento, però questo è. Non sarà così banale poi da fare? Diciamo che come tutti gli interventi ci sono interventi che durano 20-25 minuti perché abbiamo una conformazione del paziente e dei calcoli piccoli che fuoriescono in un attimo e pazienti che invece hanno o una conformazione fisica o un'anatomia particolare al loro interno per cui è più difficile per il chirurgo... Penso ai pazienti obesi ad esempio. Ma dipende come sono dentro. A volte sono belli dentro nel senso che la colecisti si presenta subito, non ha difficoltà di andare a reperirlo, non ha anomalie anatomiche. Quello è la cosa più importante per noi perché rispetto alla chirurgia dove si vedeva con gli occhi che si toccava con le mani noi abbiamo dei bellissimi schermi e dei ferri per cui per trasmissione noi lavoriamo, per cui dobbiamo un po' abituarci anche a questa diversificazione. Non guardiamo più direttamente ma guardiamo in uno schermo e lavoriamo a distanza. Per cui interventi, ripeto, che possono durare anche 20-25 minuti, interventi che durano un'ora semplicemente per la difficoltà di reperire la colecisti e di staccarla dal nostro corpo. Oltretutto calcoli grossi, un centimetro e mezzo, due, quattro centimetri, grandi come un uovo, dall'ombelico fanno molta fatica a passare. Dopodiché tutto ritorna alla normalità nel giro di quante. Allora, i pazienti vengono dimessi nell'arco di 24-48 ore. A questo proposito volevo dire che la chirurgia dell'ospedale di Alzano ha partecipato ad uno studio nazionale in cui venivano visti alcuni pazienti selezionati al momento della prima visita. Gli si spiegava che se l'intervento fosse andato bene, se non ci fossero stati problemi e se loro aderivano a questo studio, la possibilità delle dimissioni precoci. Cioè nell'arco delle 24, massimo 36 ore dopo l'intervento. È stato applicato nel 90% dei nostri pazienti e sono stati dimessi tutti entro le 24-30 ore al massimo, per cui il giorno dopo l'intervento. A livello nazionale siamo stati il terzo ospedale, ci siamo classificati terzi, diciamo così, per il numero di pazienti che sono stati sottoposti alla colecistectomia e dimesso nell'arco delle 24 ore. Senza ovviamente nessuna conseguenza. Allora, veniva spiegato ai pazienti che per qualsiasi problema, fosse anche banalmente un mal di pancia, un mal di testa, un qualsiasi problema, il pronto soccorso era aperto e l'assistenza da parte dei chirurghi era garantita 24 ore su 24. Dopodiché si ritorna alla normalità? Allora, facciamo una visita di controllo a sette giorni dall'intervento, sia per valutare le ferite, sia per valutare il paziente. Che saranno piccole? Sono piccole, sono quattro incisioni, due da un centimetro, due da mezzo centimetro. Ultimamente, invece di mettere i classici punti di filo o le graffette metalliche, mettiamo dei punti riassorbibili, cioè non dobbiamo neanche più togliere i punti, semplicemente il paziente deve fare attenzione alle ferite, dopo una settimana si può lavare tranquillamente e i punti si sciolgono veramente, si staccano da soli. Quindi il controllo ambulatoriale a distanza di una settimana ci fa vedere qual è, nell'immediato post-operatorio, le possibili complicanze, qualche ematoma, dolori, la maggior parte delle persone torna alla piena normalità. Fate un'ecografia di controllo? Non è necessario, se sono interventi di routine senza complicanze che non hanno avuto problemi durante l'intervento, non è necessario fare un'ecografia di controllo. La funzione della cistifelle avviene sostituita da qualche farmaco oppure no? Allora, nei primi 15-20 giorni diamo un farmaco che è un fluidificante della bile, per quale motivo? Perché vogliamo che la bile defluisca attraverso la via biliare senza problemi, senza dare possibilità di ulteriori caoliche, di ulteriori dolori che potrebbero ingenerare paura nel paziente e far pensare noi a qualche complicanza. Per cui, passati questi 20 giorni di terapia, il paziente riprende la sua vita normale. Regime alimentare? Regime alimentare vi chiediamo nell'arco della prima settimana di non assumere uova, fritti e grassi, salumi, insaccati, cioè... Aria. No, si può mangiare, come dico sempre io, carne e pesce, frutta e verdura e si possono mangiare anche i dolci. Chiaro che fra la Santa Onore e la crostata si sceglie la crostata, fra il fritto misto e il forno, il pesce al forno, mangiamo il pesce al forno. Una dieta varia ma non necessariamente grassa. Che non necessariamente bisogna poi rispettare all'infinito. Sarebbe meglio rispettare all'infinito, ma... Sarebbe meglio, no, ma in realtà poi si può mangiare normalmente, diciamo, al paziente di reintrodurre gradualmente tutto quello che mangiava prima, facendo attenzione, se dovesse avere problemi, quali sono i cibi che lo disturbano e in quel caso ci risentiamo. È possibile fare della prevenzione per evitare la formazione dei calcoli e la cistifelle oppure no? Sostanzialmente no, nel senso che non è come per i calcoli della via urinaria, quindi per i calcoli renali dove ci sono delle diete che possono aiutare a non far formare calcoli e soprattutto bere molto. Per la colecisti abbiamo visto che c'è una predisposizione, una predisposizione anche del sesso, prevalentemente le donne, soprattutto perché durante la gravidanza si alterano i sali biliari e quindi hanno una maggiore probabilità di avere i calcoli alla colecisti e l'abbiamo visto anche nella popolazione del Centro America, Bolivia e quelle zone, è proprio una malattia molto più frequente rispetto alla media internazionale. Il sintomo più evidente è il dolore violento della colica oppure c'è qualche segnale che potrebbe essere interpretato? Allora, qualche segnale sono un po' di difficoltà alla digestione, un senso di pesantezza nella zona destra, proprio perché è la zona dove la colecisti dovrebbe lavorare e invece non lavora. Però il sintomo classico è la cosiddetta colica biliare, con il dolore a crampo, la nausea, il vomito, per cui il paziente si rivolge al pronto soccorso la maggior parte delle volte. Benissimo, il nostro tempo a disposizione finisce qui, ringraziamo la dottoressa Pina per essere stata con noi, grazie a voi per averci seguito e buon proseguimento con Bergamo TV. Grazie, arrivederci.